Un dato fondamentale di tutti i nostri eretici è che hanno scagliato il potere dalle mani. Non hanno voluto prendersi il potere anche quando quel potere poteva essere importante. Piero Clamandrei fu un grande antifascista. Era convinto che la cultura, la conoscenza, fosse lo strumento più importante per combattere il fascismo. È stato un pezzo della storia d'Italia, ma c'è qualcosa nella sua vita intellettuale, nella sua vita morale, in quello che ha insegnato, in quello che ha scritto, che ci permette, anzi ci obbliga, a considerarlo proprio un eretico.